oggi voglio parlare nuovamente di un argomento che ho l'impressione non sia ancora chiaro ovvero il file json da caricare sui droni le zone geografiche us ufficiali e le zone rosse della dji le famose no fly zone dji che spesso non coincidono con quelle ufficiali e ne parlo sfruttando il mitico mavic 3 pro che anche quando uscirà il mavic 4 resterà un drone fantastico e dovrò avere dei motivi veramente importanti per sostituirlo con il mavic 4 staremo a vedere ma partiamo dall'inizio in qualità di pilota quando utilizziamo un drone dobbiamo accertarci che la zona in cui intendiamo volare non sia limitata oppure vietata da una zona geografica os la cui mappa ufficiale è pubblicata sul sito di flight in questa mappa anche i notam vengono trasformati in zone geografiche os e pubblicati pertanto il pilota di un drone prima di compiere il volo deve consultare ha la responsabilità di consultare le informazioni sulle zone geografiche os che come detto in italia vengono pubblicate su di flight quindi il pilota ha la responsabilità di consultare la mappa invece l'operatore del drone che poi è quello è colui che si deve registrare sul sito di flight ottenere il codice qr code di registrazione e applicarlo su tutti i droni in cui opera operatore che può coincidere con il pilota e quando coincide con il pilota deve rispettare entrambe queste indicazioni ovvero le responsabilità del pilota e le responsabilità dell'operatore l'operatore deve assicurarsi che il pilota abbia ricevuto le informazioni sulle zone geografiche os e se del caso aggiornare le informazioni nel sistema di geo consapevolezza del drone ma perché se del caso semplice perché soltanto i droni con marcatura di classe devono avere obbligatoriamente l'interfaccia per caricare i dati delle zone geo ufficiali i droni senza marcatura possono non avere e solitamente non hanno questa interfaccia inoltre per fare questa cosa bisogna avere un file json compatibile che non crei problemi al drone come invece negli ultime settimane sta avvenendo con il file json di flight che però a quanto pare ha sistemato perché oggi vedremo tra poco funziona tutto un aspetto ancora poco chiaro a molti è quello che il produttore del drone con marcatura c1 c2 c3 può decidere come deve funzionare il sistema geo ufficiale ovvero il produttore del drone può decidere di limitarsi a segnalare le restrizioni della zona geografica ufficiale oppure addirittura può fare in modo che il drone quando entra in una zona geografica ufficiale e si fermi rallenti e faccia delle azioni ma quando c'è questo blocco se c'è questo blocco deve essere fatto in modo che il comportamento del drone non crei pericoli per il suo assetto di volo e quindi una deve essere una cosa graduale ma ripeto è una possibilità la prima è quella di segnalare soltanto senza bloccare la seconda è quella anche di bloccare in un precedente video ho fatto vedere che il file json sui droni dji si limita a segnalare quindi dji ha scelto soltanto di segnalare e non bloccare di lasciare libera la responsabilità del pilota quando entro in una zona geografica os ufficiale ma in italia c'è un problema anzi più di un problema andiamo con ordine il primo problema è che dji in italia ha ancora le sue no flight zone come possiamo vedere vedete di default su ogni drone dji anche quelli con marcatura di classe presenta ancora le sue no flight zone e non mostra le zone geografiche os ufficiali per visualizzare le zone geografiche os ufficiali dobbiamo caricare sul drone con marcatura il file json messo a disposizione da ad flight e questo file per ora è disponibile soltanto per chi paga l'abbonamento ad flight e non dovrebbe essere così dovrebbe essere di libero scaricamento come detto se noi siamo l'operatore di un drone con marcatura c1 c2 c3 per regolamento dobbiamo caricare questo file sul drone quando è che dobbiamo caricarlo prima di ogni volo perché se ci sono dei notam e se non lo scarichiamo non li possiamo vedere i nuovi notam trasformati in zone geografiche os benissimo mentre stiamo vedendo che ci sono ancora come ho detto le no flight zone dji sull'app dji fly e non le zone geografiche os dobbiamo caricare il file json scaricato da ad flight che ho scompattato e inserito di una micro sd card da qualche settimana in molti si sono lamentati che non riescono a caricare questo file vediamo cosa succede oggi che è il 2 ottobre seleziono il file della micro sd card su cui l'ho inserito vedete in questa cartella qua file json di flight e vediamo cosa succede molti lamentano appunto tanto tempo oppure un blocco del sistema mentre stanno cercando di caricare vediamo cosa succede a me ed eccoci quasi alla fine sono passati circa 5 minuti poco più di 5 minuti e ha caricato il file json di flight ed eccolo qua dji rc pro questo è il radiocomando dji rc pro abbinato al mavic 3 pro e questi queste sono le zone geografiche us ufficiali vedete corrispondono esattamente a quelle che ci sono su dfly compreso il notam ma c'è un però restano le zone rosse e dji come ad esempio la pista all'aeroporto di genova è segnata in rosso è una zona che non ci dovrebbe essere perché la zona geografica us a parte che esiste mai più larga la zona rossa reale non è così stretta ma comunque le zone dji le zone no fly zone dji non sono quelle ufficiali quindi in certi casi non ci permette di volare in zone dove magari invece è consentito dalla zona geografica us le zone ufficiali del file json vengono inserite come tutte come zone di allerta rafforzata e come detto non inibiscono il drone per una scelta precisa consentita da regolamento la cosa interessante da sapere che le zone geografiche us ufficiali in italia sui drone dji e le abbiamo soltanto se carichiamo il file json invece in alcuni stati esteri come ad esempio la francia il belgio la svizzera quando aggiorniamo direttamente dall'app i dati fly safe vengono importati direttamente le zone geografiche us ufficiali e le zone no fly zone dji scompaiono e ce ne rendiamo conto andando sul sito dji nella pagina informazioni zone geo dove vediamo che in italia ci sono appunto ancora le zone dji e non le zone geografiche ufficiali mentre se facciamo un giretto in francia possiamo vedere che in francia ci sono le zone geografiche ufficiali francesi mentre le no fly zone dji scompaiono quindi in francia se noi portiamo il drone in francia e aggiorniamo i fly safe senza dover scaricare json direttamente la dji fly ci presenta queste informazioni zone geografiche francesi ufficiali qua ad esempio siamo in zona in zone aeroportuali e andiamo a vedere ad esempio all'aeroporto di inizia non c'è una zona rossa nemmeno sulla pista sono tutte zone di allerta rafforzata dove il drone non viene bloccato vedete questa è l'aeroporto la pista d'aeroporto non è zona rossa è tutto arancione se invece andiamo in spagna ad esempio a madrid vediamo che ci sono ancora le no fly zone dji non ci sono quelle ufficiali così come in portogallo ci sono ancora le zone dji in germania invece ci sono le zone geografiche us ufficiali anche in svizzera e in belgio ci sono le zone geografiche us ufficiali quindi ricapitolando le zone geografiche us ufficiali sui droni dji non bloccano il drone per il momento in italia anche se carichiamo il json restano le no fly zone dji e come detto questo file deve essere caricato soltanto sui droni con marcatura c1 c2 c3 per gli open category mentre c5 c6 per le operazioni specific in alcuni stati come la francia che rendono disponibile il file json pubblicamente probabilmente hanno trovato anche qualche forma di accordo con dji dji aggiorna automaticamente la sua mappa che presenta agli utenti togliendo le sue no fly zone presentando soltanto le zone geografiche us ufficiali quindi sarebbe bene che anche l'italia si accordasse in qualche modo con dji rendesse liberamente scaricabile il file json in modo che dji possa automaticamente aggiornare il suo flaysafe con le zone geografiche us nazionali ed eliminare le sue no fly zone ne parlerò con inac in uno dei prossimi tavoli tecnici anche se comunque avevamo già sollevato a questa problematica delle no fly zone dji un po di mesi fa e non ho più avuto aggiornamenti e con queste novità vedremo cosa accadrà spero che questo video vi sia stato utile vi ringrazio per l'attenzione iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti noi ci vediamo con il prossimo video su quadricottero news e buona continuazione a tutti